Senta, salve, io mi chiamo Mario, la chiamo Dalpette, lì dal campo sportivo, mi hanno dato il suo numero, scusi Lora però c'è da capire una roba perché dietro lì nel campo i ragazzi qua, insomma abbiamo trovato dei danni, abbiamo cercato di capire una roba un'altra e mi hanno dato il numero di un certo Savino che in questo momento non risponde allora mi hanno dato il suo perché so che eravate insieme qua a casa Dalpette e niente c'è da capire questa cosa qui che sti danni qui... Ah ma nelle camere? Cioè non capisco dove erano... Sì, sì, nelle camere, nelle camere, allora il nome che è venuto fuori di questo Sabino che pare che sia insomma un suo socio però poi non trovandolo mi hanno dato il suo cosa avete combinato lì dentro? Ma allora Sabino ha dormito proprio in foresteria stiamo parlando giusto? Non lo so, cioè io avevo una camera da due, dormivo con uno dei miei... Sì, ma in che stato l'avete lasciata? Quelle erano in solo asfatte, cioè non so, ho dormito sul letto e poi c'erano... Io capisco che a queste feste qui... No, la camera era a posto dove ho dormito io... Sì, ma c'erano... Io ho dormito nella camera numero uno... Guardi, io sono andato perché non ci credevo... Ma che camera... di che numero state parlando? Di che camere? Perché erano numerate le camere lì? La uno, la uno, la uno... Qualcuno ha cagato nel letto signora, cioè capisco che ci si ubriache e tutto però... Ma no, no, io sono andato e ho lasciato anche la camera a posto... Ma lei era da solo in quella camera lì? Eh? Cioè era da solo, eravate in di più, non lo so io... Cioè era una camera da due letti, la camera da due posti... Eh, ma l'ho qui a lei, la sua compare, perché... Gli era una spessa merda... Io capisco che ci si ubriache e tutto, però cagare nei letti no... No, quella lì era a posto quando me ne sono andato io... Poi durante il giorno se c'è entrato qualcun altro, non lo so, ma quella lì... No, va bene, infatti io la chiamavo anche per quello... Cioè io devo capire chi aveva le chiavi di quel posto, lei a chi le ha passate... No, io le chiavi le ho lasciate nella toppa, non l'avevo ricevuto... Io so che c'era quel ragazzo lì alto, Salvatore, mi sembra che ci aveva anche sempre in mano le chiavi... Non so che diavolo di via vai c'era, però... A me interessa capire chi ha cagato nel letto, perché insomma c'è... Guardi, io non so neanche con chi sto parlando, cioè lei ha un numero... Il signor Mario Franchetti della Protezione Quaccibile di Alpette ci ha chiamato dal... Mario, ho capito, guardi Mario, io non so cosa dire, mi dispiace perché è successo... No, ma io... Io ho dormito con il mio sociolà, quello che posso dire è che quando sono andato via la camera era a posto... Però io sono andato via a mezzogiorno, alle 11, insomma, alle 11 abbiamo lasciato la camera alle 11 e un quarto... E poi siamo tornati giù a Torino... E quando sono andato via ho lasciato le chiavi nella toppa, l'ho lasciata aperta... Nella toppa? Nel bussolotto, ho lasciato la chiave nella porta... Ma era... Non l'ho chiusa, l'ho lasciata lì, la porta di uscita dello stadio era aperta perché sapevamo che la lasciavano aperta... Ma era Guglielmetti, che aveva le chiavi... Eh? Succa! Ciao! Scherzo telefonico alpettese, dalla radio ancora online. Grande Pino! Ma non avete ancora finito? Vieni su, no, che ci beviamo delle birre. Ciao Pino! Ciao, ciao, ciao! Quanti siete? Ci saranno tutti lì? 15! Ah, dannati, dannati! Guarda, stavo per spagnare il cellulare, meno male che lo faccio il cellulare! Ciao! 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 Ciao!